A noi. Eh sì, che buon pomeriggio che ci troviamo in un posto che quasi quasi si potrebbe definire Eden. Katia, che ne dici? Guarda, è uno spettacolo, vuoi girare gli occhi di qua di là. Ma Sara, proprio per quello che tu sottolineari, io lo scelgo sempre con piacere per riproporre qualche appuntamento di Borghia Casali. E per questo ringrazio sempre il padrone di casa Gianluigi. No, grazie a voi. Perché è sempre molto disponibile e questo io mi sento di riassumerlo come il suo sogno. Quindi mi raccomando, seguite lui e se vi trovate venite a fare una passeggiata in Germania. È un posto tenuto, in un modo, è bellissimo, tu quasi si puoi sedere per terra, tocchi gli alberi, è che cosa dire? Sì, davvero, penso che venire qua sopra uno si rigenera e si ritempera pure. E allora non ne approfitteremo per venire a trovarlo. È sempre un piacere. Grazie Sara. Grazie. Grazie.